Hanno anche gridato cose brutte nei confronti di extracomunitari, andate a casa vostra, eccetera, eccetera. Io ho chiamato i carabinieri, ho messo in via voce, li ho minacciati per dire guardate che sto chiamando. Poi ho messo in via voce e i carabinieri hanno sentito le urla e le grida che facevano. Prima di inveire contro i residenti di questa casetta, tutti indiani avevano lanciato in giardino petardi per farli esplodere, prima di via Frassinetti, poi salendo sull'argine da lì. È il vicino, Luigino covre a riprenderli e chiamare il 112, il gruppetto scappa. Dopo mezz'ora però sono tornati e hanno buttato due o tre petardi anche qui nel mio giardino. Giovanissimi, sicuramente minori, afferma con certezza il signor Luigino, cui da manforte anche Sergio, proprietario della casa a fianco. Anche bambini di 10-12 anni che fanno parte della compagnia. Hanno lanciato petardi? Sì, anche qui da me. Sì, 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 sì. Dopo vanno dietro. Non hanno nulla da dire sull'episodio. Alcuni indiani residenti nella casa, fermati, non conoscono nemmeno l'italiano. Le molestie da parte del gruppetto di ragazzi sono continuate però tutta la notte sprezzanti dal fatto che le forze dell'ordine siano state allertate. È una disperazione. Adesso è una disperazione. I vigili non fanno niente. Ma seminano il panico questi ragazzi? Cioè, la gente ha paura. Perché sono 10-12 persone e se tu vai a parlare loro ti rispondono male. Non siamo sicuri. A mezzanotte, lunedì notte, ragazzi 12-13 hanno in giro. La settimana scorsa la polizia ha eseguito uno sgombero in un'altra casa della via occupata da abusivi. La settimana scorsa la polizia ha eseguito uno sgombero in un'altra casa della via occupata da abusivi.